Questa iniziativa di costituzione del gruppo dei consiglieri donatori di sangue, di organi, di tessuti vuole rappresentare un segnale, ci auguriamo positivo e propositivo, nel mondo del volontariato, delle associazioni che si occupano di questo settore importante per la sanità del Veneto ma anche per la società del Veneto con il sistema solidaristico dove ci si mette a disposizione dando qualcosa di proprio, di intimamente proprio per il bene e la salute degli altri. Un messaggio soprattutto verso le giovani generazioni che se vogliono accogliere questo invito possono farlo aderendo e associandosi a quelle organizzazioni che da molti anni in Veneto stanno lavorando proficuamente accanto al sistema sanitario in questo settore. Dal Consiglio regionale con 16 adesioni su 51 consiglieri vogliamo dire al Veneto che donare si può, donare aiuta a donare.